Buon pomeriggio a tutti voi, ho il piacere di presentarvi Cristian Buon pomeriggio a tutti Come promesso Cristian ci ha aspettato circa un mese, un mese e mezzo perché fortunatamente siamo pieni di lavoro e questo grazie soprattutto a voi ma finalmente ce l'abbiamo fatta, gli abbiamo consegnato la Mercedes nuova cioè che con le ambient light e di sera è tutta l'altra macchina le vogliamo vedere? Ehi Mercedes! Di qualcosa? Attiva luci soffuse Sto attivando le luci soffuse Ehi Mercedes! Sì? Luci soffuse colore viola Sto cambiando il colore Ovviamente non ci siamo fermati solo qua oltre a smontare tutta la macchina e installare il pacchetto ambient come originale abbiamo attivato anche l'app per la gestione luci ambient questa app ci permette di gestire sia luminosità che colori ma nel momento in cui andiamo in colori attiviamo il multicolore e la macchina come in origine sceglierà a suo piacimento i vari colori da abbinare ciò non toglie che il cliente potrà fare anche il monocolore Ehi Mercedes! Di qualcosa Disattiva luci soffuse Sto disattivando le luci soffuse Vi ricordo che per noi la vostra soddisfazione è importante e l'ultimo pensiero lo lasciamo a Cristian Sto aspettando un mese che non vedo l'ora di attivarle Senti ma un conto è vederlo sui video e cose dal vivo ti ha Dal vivo si fa molto effetto perché ce l'ha cambiato proprio la macchina e l'abitaco è bellissimo Grazie Grazie della tua testimonianza Io rimango a disposizione Un saluto a tutti voi Ciao a tutti Grazie